Il Teramo chiude con una sconfitta il girone di andata del campionato. Stop che sulla carta poteva starci visto l'avversario che aveva di fronte, la Ternana, una delle corazzate del girone B. Tuttavia va anche messo in evidenza che il diavolo è stato solo lontano parente di quello visto pochi giorni prima al Bonolis contro la Triestina. Stavolta la squadra di Maurizzi è stata quasi mai propositiva come fosse svuotata di energie fisiche e mentali indispensabili per affrontare una formazione così forte come quella Umbra. La Ternana di De Cagno tra l'altro era priva di alcuni pedini importanti ma la panchina è lunga, lunghissima e in settimana c'era stata la contestazione dei tifosi con il tecnico molto vicino all'esonero. Insomma una situazione sulla carta che poteva avvantaggiare il Teramo. Invece sin dai primi minuti la squadra di casa è apparsa aggressiva e determinata. Dopo la conclusione di Frediani disinnescata da Lewandowski la pressione rosso-verde cresce, l'area bianco-rossa viene presa d'assalto, la difesa e il portiere devono sventare altri due pericoli. Alla mezz'ora però le estremo del Teramo non può evitare il gol, l'azione della Ternana si sviluppa lungo la fascia destra. Pobega mette dentro un cross basso che chiede solo di essere spinto in rete da Frediani. Gara in salita per il Teramo. La squadra di Maurizzi riordina un po' le idee e reagisce al 42esimo. Palla buona per Spighi, conclusione deviata in angolo dalla difesa di casa. Sugli sviluppi del calcio d'angolo palla in area, qualche apprezzione ma nulla più. Nel finale di tempo altra occasione per la squadra di De Cagno. Frediani sulla fascia ne salta due calibra un cross per la testa di Pobega che colpisce bene ma non inquadra la porta di poco. Alla ripresa Ternana con Callegari al posto di Defendi, Teramo con lo stesso undici. Dodicesimo, padrone di casa vicini al bis, percussione di Frediani, cross basso su cui si avventa Marilungo che conclude, tiro deviato, la palla rimane in area, ci provano ancora i giocatori di casa ma il Teramo si salva. Diciassettesimo, il pari bianco-rosso, punizione di proietti, Fior Daliso segue la traiettoria deviata da Fazio sul secondo palo e insacca la sua prima rete stagionale. Davvero un gran gol che merita di essere rivisto per il gesto tecnico acrobatico. Rete da festeggiare con gli oltre 100 tifosi teramani arrivati e liberati. La gioia tuttavia dura poco. Al ventitresimo la Ternana torna in vantaggio con Pobega. Il giocatore raccoglie in area un assist di testa di Bifulco e insacca ma la difesa bianco-rossa dov'era? Nel Teramo entrano Bacio, Terracino e De Grazia, fuori Piacentini e Spighi. Ora il diavolo è passato al 4-2-3-1. La Ternana vuole mettere al sicuro il risultato e spinge parecchio ma la difesa del Teramo regge. I bianco-rossi ci provano sempre su calcio da fermo ma senza fortuna e anzi i padroni di casa potrebbero fare il tris in pieno recupero con il neoentrato Butic ma da buona posizione il giocatore calcia fuori. Finisce qua domenica nell'ultima gara del 2018 prima del girone di andata al Bonolis arriverà il Sud Tirol.